Ragazzuoli, ciao a tutti, ma vogliamo un attimino parlare adesso con tutto il bene del mondo di quanto siano infidi e bastardi quelli di tutto sport perché c'è un limite a tutto, ci può stare che magari sai, magari nella redazione si spingeva abbastanza, si desiderava parecchio di vedere ancora per anni Paolo Di Bala alla Juventus, supposizioni, ipotesi queste. Solo che poi come fai nel momento in cui, magari che ne so, hai anche qualche indiscrezione sul fatto che Di Bala non rinnoverà con la Juventus ad iniziare a spingere per vedere Di Bala all'Inter, cioè una roba che va fuori da ogni logica. Una volta si criticava tutto sport perché era un giornale dannatamente filo juventino, adesso sti qui iniziano a spingere per Paolo Di Bala all'Inter. Il giorno dopo la partita contro la Salernitana, ancora quando non si sapeva l'esito dell'incontro tra Di Bala e la Juventus, lì in prima pagina un bel Inter. E' vero che se si va a leggere lì il sottotitolino piccolino c'è scritto Di Bala recupera con gol alla Salernitana e adesso ci sarà contro l'Inter. Però insomma, nel giorno dell'incontro tra Di Bala e la Juventus, scrivere lì Inter, eccomi, è un pochino fraintendibile. Può essere un tantinino fraintesa come cosa. Soprattutto poi, se il giorno dopo, quando si sa, bene o male che la Juventus purtroppo, dal mio punto di vista, non rinnoverà il contratto a Paolo Di Bala, c'è lì Di Bala con la maglia della Juventus e dietro la maglia dell'Inter. Perché Di Bala, adesso che non rinnoverà con la Juventus, potrebbe andare all'Inter. Tutti stanno parlando di Spagna come futuro di Paolo Di Bala. Giustamente ci manca tutto sport, il giornale juventino per eccellenza, che spinge Di Bala all'Inter. Siete proprio dei bastardi adesso. Già che noi stiamo soffrendo, già che da ieri c'è un'area da funerale abbastanza importante attorno al clima juventino, che poi nelle migliori delle ipotesi c'è il clima da funerale, perché altrimenti c'è il solito clima di odio che dopo la notizia del mancato rinnovo di Di Bala, figuriamoci quanto sia stata alimentata. E voi? Che cos'è che fate? Non magari un tributo a Di Bala, che ci sta assolutamente, no? No, no. Spingiamo Di Bala all'Inter. Siete infidi? Siete veramente infidi? Questa cosa dobbiamo dirla, non ci dobbiamo nascondere. Questa è proprio cattiveria pura nei confronti del tifoso juventino. Poi, d'altro canto, ti salva il fatto che, fino a prova contraria, è pur sempre una voce di calcio mercato. E si sa molto bene quello che è il rapporto tra tutto sport e le notizie prese di calcio mercato. Quindi, fa anche ben sperare questa cosa, fa anche ben sperare. Però, già che noi qui siamo disperati, no? Perché Di Bala non rinnoverà. Siamo disperati all'idea di vederlo con un'altra maglia, a prescindere da quella che sarà. Arrivate voi che, nel giro di due giorni, fate due belle prime pagine. La prima con Inter, eccomi. E la seconda con Di Bala, proprio con la maglia dell'Inter. Cioè, siete cattivi. Siete cattivi. È vero che voi, giustamente, dovete vendere, dovete far parlare di voi. Ce la fate, ce l'avete assolutamente fatta. Ci mancherebbe altro allo stesso tempo. Però, siete infidi. Perché questa è cattiveria pura. Questo non è accettabile. Siete bastardi. Bisogna dire le cose chiare come stanno. E speriamo che effettivamente continui il vostro rapporto con le notizie prese di Calcio Mercato. Perché, davvero, se l'unica volta che avete ragione è questa qui, porca Eva. Perché, tanto sicuro, sotto c'è Beppe Marotta, in un qualche modo. In un qualche modo c'è. Non si sa con quale offerta. Non si sa quanto sia onerosa. Però, secondo me, Beppe Marotta c'è. E sicuramente ci proverà. E in caso io ce l'avrò a morte con voi. Non c'è niente da fare. Ce l'avrò a morte con voi. Mentre invece, sempre inerente ai discorsi di ieri, come avrete visto, è stata fatta un'intervista ad Arriva Bene, riguardo sempre questo mancato rinnovo di Paolo Di Bala. E alla fine della fiera è proprio emerso il fatto che pare sia stata la Juventus a non proporre neanche più un'offerta al ribasso nei confronti di Paolo Di Bala. Perché altrimenti sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti del giocatore presentarsi lì con un'offerta al ribasso. Questa cosa, senza ombra di dubbio, fa cadere, no? Magari le accuse nei confronti di Paolo Di Bala. Da parte di tutti quelli che dicevano Di Bala non ha voluto rinnovare con la Juventus per una cifra inferiore. Pare proprio che alla fine della fiera la Juventus non abbia proprio offerto una cifra a Paolo Di Bala, nemmeno al ribasso. Stando a quelle che sono le parole di Arriva Bene, stando alle parole di quello che gestisce le finanze della Juventus. Quindi penso che possa essere considerata come una cosa verosimile questa qui. E che anzi scagiona anche Di Bala. Arriva Bene avrebbe potuto fare tranquillamente un'intervista dicendo Oh, noi gli abbiamo fatto un'offerta, anche abbastanza importante, non l'ha accettata, che cosa ci dobbiamo fare? Mentre invece ha proprio detto No, non gli abbiamo fatto nessun'offerta per non mancargli di rispetto. Poi, boh, dopo per carità, è sempre tutto quanto estremamente soggettivo nella vita ed è una delle cose belle, no? Della vita, il fatto che ognuno abbia un pensiero diverso dall'altro. Oddio, sui social non sempre un bene, però diciamo di sì. Solo che a questo punto, ok, non hai fatto un'offerta per non mancargli di rispetto, va bene. Però, a sto punto, il rispetto l'hai mancato nel momento in cui avevi trovato un accordo ad ottobre. Cioè, se avevi dei dubbi assolutamente leciti, ok, decidi di non rinnovarlo, ok, basta. Basta, non è che la devi tirare avanti fino, no? Ad aprile, praticamente. Arriva bene stesso, ha detto, guarda, da quando abbiamo preso Vlaovic sono cambiate un pochino di cose e Dybala non era più al centro del progetto. Va benissimo, Vlaovic l'hai preso a gennaio, a fine gennaio. Si parlavano pure dei famosi rinnovi da fare a febbraio. Anche prima del CDA, a questo punto, dato che ormai avevi deciso. Fai questo incontro, tanti saluti. Tanto Dybala, lo sapevi già che l'avresti scaricato, tra le altre cose, era anche infortunato. Quindi, neanche da dire, no, speriamo di non risentirne a livelli di campo. Si è infortunato subito. E' stato un mese fuori dalla partita contro il Torino, a praticamente la partita contro il Villareal di ritorno, dove è entrato all'ottantesimo. Avevi tempo, modo e maniera per dargli la lieta notizia, comunicarla a tutti quanti, tanti saluti. Tanto ormai, ero infortunato. Sarebbe stato fuori un bel mesetto pieno. Che cosa sarebbe cambiato? Mentre invece la notizia è arrivata ieri, prima dell'ultimo mese e mezzo, di fuoco, dove tra l'altro la prossima partita sarà proprio contro l'Inter, bastardi quelli di tutto sport. Quindi, insomma, situazione strana, situazione complicata, che chissà se nel corso del tempo avremo un quadro ben delineato, ben definito, dove magari le parti in causa parleranno in modo chiaro su quello che di fatto è successo negli ultimi due anni, perché è di questo che si parla. Però, vabbè, la cosa importante di questo video, di fatto, è che quelli di tutto sport sono dannatamente dei bastardi. Questo non bisogna mai dimenticarcelo. E speriamo, speriamo, abbiamo preso la notizia come di solito fanno, perché così almeno siamo in una botte di ferro. Roba che davvero, l'unica volta che ci beccano è questa qui. Potrei andare seriamente nei matti, ma seriamente. Detto questo, ragazzuoli, nulla. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare. Fino alla fine. Forza Juve!